Ti posso dire che il legame c'è tra Federico e Oscio, che oramai è un legame quasi indissolubile e porta addirittura a volte a delle crisi di identità e quindi questo è il legame che c'è tra Federico e Oscio ovviamente è una cosa anche piacevole, insomma, ormai essere identificato come questo personaggio. Il legame con Danunzio e con questa città in particolare è diventato sempre più stretto anche grazie al festival che è un appassionato di vicende danunziane, insieme ad altre persone preparando anche una serie tv sull'impresa di fiume quindi diciamo che poi ogni anno vado in pellegrinaggio al Vittoriale, insomma è diventato quasi un punto di riferimento annuale per me sia al festival che al Vittoriale. Di nuovo c'è sicuramente che lavorando io sull'attualità e ovviamente presento sempre delle novità legate appunto ai fatti, alle novità sia in campo di politica nazionale che quella internazionale, quindi io faccio vignette sull'attualità quindi ovviamente quello porto e quindi diciamo che ogni anno c'è un aggiornamento.